In nomine Patris et Filii et Spiritus Santi. Amen. Sielo dato Gesù Cristo. Sempre sielo dato. Maria Sede Sapientie, ora Pronobis. Continua la vita di San Benedetto, scritta da San Gregorio Magno. Sedicesimo ed ultimo episodio La morte e la gloria Gregorio, vorrei raccontare ancora molte altre cose di questo grande padre, ma tralascio di proposito alcuni episodi della sua vita per affrettarmi ad esporre anche le imprese di altri. Non voglio tuttavia lasciarti ignorare come l'uomo di Dio, oltre ad essersi reso famoso davanti al mondo per tanti miracoli, rifulse anche, e non poco, per la sua dottrina spirituale. Egli scrisse infatti una regola per i monaci, insigne per la sua discrezione, limpida nel suo stile. Chi dunque volesse conoscere più a fondo il suo tenore di vita, può trovare, nelle stesse prescrizioni della regola, lo specchio di un magistero incarnato nella sua persona. Infatti il santo non potè, nel modo più assoluto, insegnare diversamente da come visse. Nell'anno stesso in cui doveva lasciare questa vita, l'uomo di Dio preannunciò il giorno della sua santissima morte, ad alcuni discepoli che erano con lui, e ad altri che erano lontani. Egli raccomandò ai presenti di custodire in silenzio quanto avevano udito, e agli assenti indicò quale genere di segno vi sarebbe stato al momento in cui la sua anima sarebbe uscita dal corpo. Sei giorni prima di morire si fece aprire la tomba. Ben presto fu colto da febbri violente che cominciarono a stremarlo. Poiché di giorno in giorno la malattia si aggravava, al sesto giorno si fece portare dei suoi discepoli nell'oratorio. Là si fortificò per il suo transito, ricevendo come viatico il corpo e il sangue del Signore. I discepoli sostenevano tra le loro braccia il suo corpo debilitato. Egli si tenne così ritto in piedi, con le mani levate al cielo, e nell'atto stesso di effondersi in preghiera, rese l'ultimo respiro. L'evento fu rivelato il giorno stesso, con una medesima e identica visione. A due suoi monaci, uno dei quali si trovava in monastero, e l'altro invece in un luogo più lontano. Essi videro infatti una strada ricoperta di tappeti, tutta risplendente di innumerevoli lampade, che partiva dalla sua cella, e in linea retta verso oriente si innalzava fino al cielo. Alla sua sommità si ergeva un uomo di aspetto venerando, tutto circonfuso di luce. Egli chiese loro se sapevano che via fosse quella che stavano contemplando. Risposero che lo ignoravano. Allora egli soggiunse, questa è la via per la quale Benedetto, uomo amato dal Signore, sale al cielo. In quel momento, dunque, anche gli assenti, secondo il segno che era stato loro indicato, poterono conoscere la morte del Santo, che i presenti videro con i loro stessi occhi. fu sepolto nell'oratorio dedicato a San Giovanni Battista, che egli stesso aveva costruito sul luogo dove aveva distrutto l'ara di Apollo. Persino nella grotta di Subiaco, dove all'inizio si era stabilito, Benedetto rifulge tuttora per i suoi miracoli, quando ne è meritevole la fede di coloro che li implorano. Ciò che ora ti racconto è avvenuto di recente. Una donna malata di mente, completamente fuori di sé, andava vagando per i monti e per valli, per campi e foreste, di giorno e di notte, fermandosi a riposare soltanto là dove cadeva sfinita per la stanchezza. Un giorno, durante il suo interminabile vagabondare, capitò davanti allo speco del Beato Padre Benedetto. Senza esserne consapevole, vi entrò e vi si trattenne. Il mattino seguente ecco ne uscì guarita in perfetto equilibrio mentale, come se mai fosse stata pazza, e per tutto il resto della sua vita conservò integra la salute che aveva recuperato. Pietro, come possiamo spiegarci il fatto che spesso, come constatiamo, accade la stessa cosa anche a proposito dell'intercessione dei martiri. Questi infatti operano più miracoli per mezzo delle reliquie che per mezzo dei loro corpi, e inoltre compiono i prodigi più grandi proprio là dove non sono sepolti. Gregorio, anche là dove riposano i loro corpi, senza dubbio, Pietro, i martiri possono operare prodigi, come in realtà avviene. Essi ne compiono moltissimi per coloro che li domandano con cuore puro. Ma poiché le anime più deboli nella fede non possono dubitare che i martiri siano presenti per esaudirle là dove non si trovano anche i loro corpi, è necessario che i miracoli più grandiosi si compiano proprio nei luoghi in cui un'anima di poca fede potrebbe dubitare della loro presenza. Coloro invece che tengono lo sguardo ben fisso in Dio acquistano per la loro fede un merito tanto più grande quanto più sicura è la loro certezza. pur sapendo che non sono con i loro corpi in quel luogo che i martiri non mancheranno di esaudirli. Proprio per questo la verità in persona volendo aumentare la fede nei suoi discepoli disse se non me ne vado non verrà a voi il consolatore. Dal momento che lo spirito paraclito procede sempre dal padre e dal figlio perché mai il figlio dice che deve andarsene affinché possa venire colui che mai si allontana dal figlio? Appunto perché i discepoli vedendo il Signore nella carne desideravano ardentemente di poterlo sempre contemplare con i loro occhi corporei giustamente viene loro detto se non me ne vado non verrà a voi il consolatore come se dicesse loro chiaramente se io non sottraggo il mio corpo il vostro sguardo non posso mostrarvi cos'è l'amore dello spirito e fino a quando non cesserete di vedermi nella carne voi non potrete imparare ad amarmi in modo spirituale Pietro approvo pienamente ciò che dici gregorio ora però dobbiamo sospendere un po' il nostro colloquio e ritemprare nel silenzio le nostre forze per raccontare com'è nostra intenzione i miracoli di altri santi sia lodato Gesù Cristo in nomine Patris et Fili e Spiritus San Amen